Salute ragazzi, mi è venuti in questo nuovo video! Ci sta mia sorella, Cretina, insieme a Benidia! Fammi da cosa questa qua! Raga, noi vogliamo inizia! No, no, le facette, sparate! Pensiamo! Allora, abbiamo l'acqua, una ciotola, una feccia e dei punti. No, levati! Come mi levano, che benedio! Cioè, rischia il gusto! Abbiamo preso queste due bustine. E ci abbiamo, vabbè, mia sorella. Mami, un'acqua! Sì, grazie! Innamorata di... Di qualcuno! Ciao! E abbiamo mia cugina che sta lì, blablabla! Abbiamo già provato, stiamo 0-0, ragazzi! 0-0! Ok, ora abbiamo rinforzato! Grazie per aver ricoperto la tozza! Abbiamo preso la ruota! E le caramine, l'acqua, tutto! Dai, perché ti mostro! Perché mi vedo così? Perché mi vedo strada! E se posso riempirtelo? Mm-hmm! E i gusti sono... Alito feltido... Dopo, se nei commenti gli scrivono a tua sorella con testa infatica, io gli dico bravo! Che si mostra! Alito feltido, limone fresco, calzini sporchi o mora di monte, erba marcia, frutti di bosco, cibo per cani, arancia rossa, cacola viscida, mela verde, ascella, puzzolente, fragola di bosco... Se noi sta ora di alito, di aglio, abbiamo un dollaro per grattare il giaglio! Il dollaro! Prima è il dollaro! Sì, è un dollaro! No, è una rira! No, è il dollaro! È il dollaro! È il dollaro! Stai avendo l'acqua! Questa è una bottiglia di mezzo! Non importa l'acqua! Papa! Sì, è buona! Che cosa è buona? Un dollaro! È un dollaro! È un dollaro! Mm-hmm! Non è un dollaro! Che gli ha detto? Stacca a me! E mi siamo qua! Sono amico! Dai, andiamo! Ma perché non mi vedete la faccia voi? Sì! Perché non si è più affitto! È tutto qui dietro! Ma è la mia pezza, per scaricare un punto! Sì, che è su! Zabbe, gratta! Zabbe, che ci siamo ricordati! Che è la felina! Ah! Cosa è la felina? Arancione, 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 arancione! Arancione, raga! Arancia o cibo per cani? In scatola! Arancia o cibo per cani! Ok! O cibo per cani! Quindi, prendiamo la ragione, raga! Che ci stanno, belle, belle, due arancioni! Due! Due! No, non so! Come c'hai tu, tre! Tanga! Perché ti guardi sempre? Eh, no, sto pensando, io mi sto guardando! Tanga! Stavo con lo sguardo perso nelle miele! E, ecco! Alla stra! Ora! Tra! Tra! Sì, vanno a volare! Tres, po' per cani! Due! Uno! Putame! Ah! Viene! Ahah! Uno! Uno parami! Ma se ti porrei in buio di schifo, cosa è che succede? Due punti! E cos'è sta cosa? C'è un bel fani! In scatola! Però non è a chissà quanto male, sa di... Ingoiato? No, sì! Dovare? No! Palma! Questo è il mio, lo ero io, lo ero regalato! Ingoiato! Due punti per lei! Grazie! Questo è il mio senso, è il mio senso! A te, sì! Non me ne prego! Sì, lo so, me ne hai regalato tu! Bene, ora trocca a te, a grattare! A me? Già scatato! Sa tipo di... Sssh! Non ti ho chiesto! E se tu non ti vedi? Sì! Ok! Tu volevi vederti! Cacca la viscela o mela? Bene! Guardi! Perché non mi ce l'avevo cacca la viscela? Cacca la viscela, non cacca la viscela! Allora... Non ci sta la verde, quindi... L'abbiamo già mangiata! Quindi passiamo all'altra! Grattami... No! Sì! Ma la zina ne me la stiamo! Sì! Gratta! Peppa! Peppa e neppol... Apple pen... Giù, giù, giù! Odiabile questa canzone! Mmm, mmm, mmm... Peppa e neppol... Peppa e neppol... Peppa e neppol... 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 Che cosa? Aspettate! Giallo! È vero, è vero! C'è il gol! Alito, fetido e limone! Fresco, limone è freddo! Sco... Freddo! Ragazzi! Ragazzi! I have a pen! I have a apple! Oh! Apple pen! I have a pen! I have a lemon! Pineapple! Pineapple! Sai cos'è? Pineapple pen! Pineapple pen è la pineapple, là è... È un bel... Apple pen! Pineapple pen! Pen! Ah, mai non ce l'ho! Pineapple pen! Questa è gialla, perché non ce l'ho? E nessuno ce l'ho! Se tu ce l'hai! Ma questa non è gialla, questa è arancio! È gialla! Muoviti! Mi gusto l'arancio? Limone... No! No, no, il mio è giusto, eh? Allora... La volta cibo per cani! Ahah! Limone... Oh! Però non è giusto, perché è tutto quello diverso! Limone o allito, feltido? Ok, vieni, vai! No, no, io ci tengo più! Poi, vieni, vai! Limone o allito, feltido, andiamo! 3, 2, 1... Vai, buzza! Allora, va, tanto credo! Yeah! Ehi, è fortuna! E prepara! Mi ne so sempre un certo! 4 punti, grazie! Ma per me è pure! Che sai che è? Che sai che è prepara? Quella che ho messo io! La piccante! E la metti con Samira! Ok! Per me non c'è problema! Siamo due a due! No, io sto a quattro! Dai! Non avete fatto il voglio a sto schifo, ma mettete il pulso! Allora c'è l'acqua! Allora! Tu per cani sta a mangiare questo lago metteria in cibo! Ah, anche a me! Andai! Perché? Ah! Che schifo! Ragazzi, questo video sta per finire! O frutti di... No! O... Ah! Dove è la stavolta in cibo? Non c'è? Non c'è? O fragola di bosco! O frutti! Frutti di bosco! No, fragola! Questa è un fragola! Frutti di bosco! Non credo che c'è gli occhiali! O erba marcia! Ok! Assamina le capite erba marcia! Quindi tieni! Sì! 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 Bene! Questa! Molto bella! Molto fucsia! Perché io non mi piace? Non mi piaceva non si pede! Perché sei cattiva! Bene! Ora te la mangi! No! E' durata ovviamente! E se questa era buona? Possiamo goiare! No! Non la metterli! 3, 2, 1, 0! Ma io ci ho fatto l'ultimo soffio! Buona! Io! Non posso dire! A me è buona! Buona! Mi piace! Tipo! La buona! E spuso l'erba! No! Perché io sono un ca... No! Perché io non mi piace l'erba! Io sono una pepola! Quali punti? La patente se è in voglia! Cioè se stai pasticando in voglia basta così! Come se fosse una pastiglia! Capito? Eh grazie! Non mi dico le pastiglie! Buona! Buona! Vai io ora tocca a me! E devo passare poi a mia mamma! Giuro no! Rosso no! Ragazzi! Ragazzi! Allora mi viene sì! Andra volta, no, andata a volte che la mangio No, ragazzi, è pericoloso No, cibo per cani non è male Non è male, la carne Ho già preso in bocca Aspettate Devo dare cibo per cani per una personcina Non è quella qua Cibo per cani Non è cibo per cani, ma il tempo finisce Non è cibo per cani, questo è quello schifoso Non è cibo per cani, che cos'è? Mangia cane Dillo, in cui è la quella schifosa Arancia Oh, cibo per cani Ma è andata una diversa, perché non è cibo per cani Però va schifo Non è arancia No, è arancione quella che ti abbiamo dato Qui c'è una gialla, rai Ah, no, è arancione Stupida Ah, ma dov'è questa? Cos'è arancione? Ti voglio Ci vediamo dopo Vediamo se cibo per cani Cibo per cani Bene ragazzi, allora abbiamo fatto Allora, l'ultimi Sì, ecco Ancora è più carino Qui ragazzi ci sta tutto lo zucchero Tutto, tutto, tutto E dobbiamo prendere mora o Mora o? No, frutti di bosco o erba marcia Di nuovo Tieni Samira Che gusto è? Erba marcia o frutti di bosco? Erba marcia prima vado tutto prende 3, 2, 1 3, 2, 1 Guarda una volta Non c'è la lingua Non c'è Capisce Ma come si capisce? Non c'è più pesa Mi sento a guardare la sentenza Vado a ingoiare Fatto Perché sei ancora collegato? Guarda Ma la mia è buona Mi sento a guardare Schifo Prima l'hai ingoiata l'erba? Sì, l'hai ingoiata prima Ingoia Diti che vedi meglio Schifo Bene ragazzi Ha ingoiato Sì, l'hai ingoiata E... Ha vinto mia sorella Per un po' molto rispetto a me Ma poi l'hai imbrogliato Ma avete messo il caramello in bocca? No Ha vinto mia cugina Bene ragazzi Abbiamo consumato tutte e due le ruote E vabbè E vabbè Questo era il video Spero che vi è piaciuto Se vi è piaciuto Spolliciate E seguitemi su Snapchat Snapchat Musicali Musicali di mia sorella E l'altro musicali Di mia cugina Allora io sono musicali Posteva vedermi musicali E... Sì, sì Sì, sì